L'Università del Melo si fa teatro, quali sono i benefici? Iniziare insieme e portare avanti insieme un percorso di teatro significa creare un gruppo, creare delle relazioni attraverso i giochi di medesimazione, di improvvisazione, entrare in personaggi che magari sono lontani da noi o vicini a noi, quindi entrare in emozioni varie, sperimentarle dall'interno e portarle poi fuori attraverso l'espressività corporea. Vuol dire innanzitutto divertirsi? E soprattutto per me è anche un ottimo lavoro mnemonico e di coordinamento. Alla mia età è un'impresa molto, molto difficile, però metto il cuore e dico ma sì, importante partecipare. In programma c'è anche uno spettacolo? È ispirato ad un testo abbastanza conosciuto in ambito teatrale che si chiama Le Cognate di Michelle Tremblay. Lei che personaggio fa? Faccio il personaggio di una zitella, diciamo, proprio una signora, l'unica signorina del gruppo non sposata. Anche lei ha i suoi problemi, le manca un uomo e lo dice alla fine. Io sono la padrona di casa, Giuliva è festante perché ha vinto un sacco di premi e poi alla fine c'è un finale che ha sorpresa, quindi non lo diciamo. Per chi vorrà venire è una restituzione aperta al pubblico domenica 23 aprile alle 4 del pomeriggio alla sala Planet del Melo. Grazie.